La democrazia italiana Il nostro voto conta talmente poco che è praticamente solo un rituale. E ora si può scegliere molto meno oltretutto? Oltretutto ci si trova con dei candidati già scelti, paracadutati, pensi quanto sono da invidiare coloro che sono candidati e sanno già, senza fare la campagna elettorale, di essere eletti. Potrebbero andarsene un mese ai Caraibi e potrebbero tornare sapendo già di essere senatori o deputati. A proposito di democrazia e di Italia, l'Italia sembra più che mai divisa. Può fare un commento sulle esternazioni di alcuni esponenti del governo sull'inno italiano? Ma guardi, io credo che se noi fermiamo dieci persone per strada e gli chiediamo di dirci tutte le parole del va pensiero, non lo sanno, così come non sanno quelle dell'inno italiano. Io credo che la discriminante sia dentro ciascuno di noi. A me per esempio capita di sentire i brividi nella schiena, di emozionarmi quando sento l'inno di Mammeli, magari in un'occasione banale come può essere prima di una partita di calcio. Ma il fatto è che mi emoziono anche sentendo magari l'inno inglese o l'inno tedesco o l'inno francese, quindi non so se sono fatto male io. Io credo che siano problemi legati al fatto che da dieci giorni ci sono 38 gradi e quindi chiaramente i cervelliano delle reazioni diverse a seconda di questo problema climatico. Quanto pesa invece la libertà di informazione? La libertà di informazione pesa tantissimo, ma la libertà di informazione, come dicevamo prima, della democrazia non esiste. Proviamo per esempio a occuparci di casi. Avete mai visto delle inchieste durissime sulle banche, sul fatto che la benzina non diminuisce nonostante scenda il prezzo del dollaro e del barile? Tante, tante, tantissime cose. Ma noi ci dimentichiamo quello che è accaduto tre giorni fa e noi leggiamo dieci giornali al giorno. Magari si immagini l'opinione pubblica che magari guarda solo dei telegiornali brevemente o ha delle informazioni molto più frammentarie che non le nostre. Ecco, i telegiornali, come stanno? Dunque i telegiornali, la gente deve sapere che nei telegiornali c'è una regola, che un minuto di servizio vale 12 righe dattilo scritte. Se in più c'è dentro, in frammezzato, una testimonianza, una breve intervista, le 12 righe scendono. Mi dica lei come è possibile, in un telegiornale di 30 minuti, che ormai per i tre quarti è costituito dai cani abbandonati, con tutto il rispetto per gli animali, da notizie di spettacolo, da notizie frivole, se l'estate è da portare la camicia fuori dai pantaloni o dentro, eccetera, mi spieghi lei come è possibile che ci siano delle inchieste vere o no? Ci sono rimaste delle piccole isole, report, ci sono rimasti alcuni commenti, ma per il resto tutto è a senso unico, non perché ci sia una censura che viene imposta dall'alto, ma perché molti giornalisti si autocensurano per timore di non fare carriera o di perdere i posti che hanno.